Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Lukulus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dove vado in live tutti i giorni, trovate il link in descrizione. Quindicesimo episodio della nostra prima stagione con il Benevento, prima stagione che ormai va verso gli sgoccioli, siamo in corsa per un posto in Europa, quale tipo di Europa ancora non lo sappiamo, ma clamorosamente i posti per le competizioni europee potrebbero ridursi da 7 a 6, perché udite udite il Sassuolo è in finale di Coppa Italiana contro la Lazio. Lazio che tra l'altro sta andando fortissimo perché è persino in semifinale di Coppa dei Campioni contro l'Atletico di Madrid, quindi insomma è una stagione che ci fa capire perché la Lazio, seppur sia molto forte, ancora non è messa benissimo in campionato, sta praticamente lottando su tre fronti diversi. Quindi questo episodio sarà decisivo per la nostra stagione perché non solo andremo ad affrontare anche Napoli e Fiorentina, che sono sicuramente due ottime squadre, due ottime squadre che tra l'altro lottano anche per l'Europa, ma le dovremo affrontare senza il nostro bomber. La Padua si è rotta nello scorso episodio, in più mentre ho avviato chiaramente questo nuovo episodio mi si sono rotti anche Insigne e Iago Falc. Abbiamo completamente perso la potenza offensiva del Benevento e affrontiamo però un Bologna che fortunatamente non è messo benissimo per quanto riguarda la capacità difensiva, perché è una squadra che è messa in un quadrante pessimo, ovvero quello attivo lacunoso, quindi dobbiamo essere aggressivi, ma non abbiamo i giocatori giusti per farlo, abbiamo i giocatori contati, ma prima di decidere come metterci in campo vediamo insomma come si mette in campo il nostro avversario. 4-3-1-2 quindi per questo Bologna che non è più guidato da Sinisa Mialovic ma da Vigiani, è una squadra che sfrutterà tantissimo le verticalizzazioni, stile tattico atteso infatti da Gegenpress, sull'auto sinistra faranno legna, mentre sull'auto destra cercheranno di spingere e sfruttare le qualità tecniche di Dominguez, che sarà poi coadiuvato su altre quarti anche da Soriano, regista avanzato, che potrebbe tranquillamente fare dei filtranti bassi o dei cross lunghi, verticali, o per la seconda punta Palacio o direttamente per Barrov, che viene messo quindi come centro avanti che attacca la profondità. Senza dimenticare che hanno anche due giocatori di spinta sulle fasce come De Silvestri, terzino putificante di destra, e Iki, esterno completo di sinistra. Io avrei messo più un terzino putificante sulla sinistra e un esterno completo sulla destra, in maniera tale che poi non si pestavano i piedi Dominguez e De Silvestri, ma insomma è una squadra che una volta arrivata su altre quarti porta un sacco di persone, perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 uomini d'attacco, quindi mezza squadra che andrà ad attaccare, quindi dobbiamo stare molto molto attenti, ma purtroppo abbiamo un solo modulo a disposizione. Vediamo qual è. L'unico modulo che possiamo sfruttare quest'oggi è il 4, 3, 2, 1 Pathfinder, perché purtroppo non abbiamo altre modalità di gioco, abbiamo tutti i giocatori rotti che ci impediscono anche di sfruttare delle alternative. Al massimo avrei potuto creare un 4, 4, 2 proprio per questa partita, ma chiaramente non abbiamo mai giocato col 4, 4, 2, siamo in una situazione delicata della stagione, è meglio non fare più chiaramente esperimenti, ma contare su quello che ci ha dato maggiori soddisfazioni in queste giornate, quindi andiamo in campo proprio con questi uomini, speriamo che di serio sia una punta vera. Dabo, Dabo in area di gore, Dabo potrebbe mettere un cross basso per Caprari che ce la fa benissimo, e quindi Caprari va a fare il gol, vittoria del Benevento con un'incursione di Dabo che sta diventando pericolosissimo in questa partita, peccato che ci sta lui e non ci sta un vero centrocampista offensivo, perché lì sicuramente potremmo colpire meglio il Bologna. Rivediamo ancora l'incursione di Dabo che arriva fino in fondo, poi riesce anche a trovare uno spiraglio veramente incredibile, perché ci stavano ben tre giocatori che potevano arrivare a toccare questo palone e far sì che non arrivasse proprio sui piedi di Caprari, e invece siamo riusciti a colpire il Bologna come se fossimo veramente capaci di farlo con giocatori di qualità lì davanti, che non abbiamo, perché Dabo è sicuramente più un giocatore che fa interdizione piuttosto che creare azioni pericolose. Ancora però il Bologna che vuole provare giustamente a rientrare in partita, Caravive, ancora per Dabo, Dabo proverà a cambiare gioco magari, no, lui fa tutto da solo, poi ci sta uno scarico veloce, ma preferisce ancora andare fino in fondo, Dabo da dove prende questa iniziativa non lo so, sta di fatto che forse è finito a terra in una zona di campo molto delicata, come potrebbe essere l'area di rigore, o forse era poco fuori, questo non lo sappiamo, vedremo cosa deciderà chiaramente il VAR, io spero per il calcio di rigore, ed è clamorosamente rigore, quindi dal dischetto non c'è la padula, toccherà invece a Gastor Ramirez pronto a colpire in rete il Benevento, anche il secondo gol arriva, siamo stati strafortunati perché chiaramente il rigore è stata una incursione di Dabo che si è inventato, c'è il suo campista offensivo, è andato dritto per dritto, è entrato convinto dentro l'area di rigore e si è beccato un bel fallaccio e abbiamo chiaramente colpito il Bologna, forse nel modo migliore possibile, perché adesso con due gol di vantaggio nel primo tempo potremmo ammazzare i nostri avversari. Ancora Dabo che fa legna sull'out di destra, Dabo riesce a far legna e anche servire poi i compagni in area di rigore, sta diventando un giocatorone. Schiattarella ancora, protegge il pallone, la gira Caravive, poi Unita che potrebbe servire Pezzella, vedete come l'esterno invertito entra tantissimo e poi arriva di serio, che purtroppo però si mangia un gol che forse la padula non avrebbe sbagliato da quella posizione. Dicevo avete visto come gli esterni invertiti entrano completamente dentro l'area e ti creano poi superiorità numerica. Ancora Caldirola, ancora calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo sbagliato, perché Caldirola purtroppo la colpisce sempre male di testa, speriamo l'anno prossimo di trovare qualche difensore che almeno sia più abile in questa qualità. Vedete ancora che l'ennesimo calcio d'angolo è stato sbagliato da Caldirola, che proprio di testa evidentemente è negato. Caravive, Caravive sull'out di destra, ancora per Dabo che tra poco uscirà. Ancora Dabo sull'out di destra, proverà a spingere, si è buttato un'altra volta a terra, peccato che stavolta non è ancora a rigore, il Bologna può ripartire sull'out di sinistra. Dabo ancora a recuperare questo pallone, speriamo che giocando questi minuti in più non si faccia definitivamente male. Schiattarella ancora per Pezzella, Pezzella va fino in fondo, potrebbe andare al tiro, entrinare di cuore Pezzella, potrebbe servire un compagno, ce ne sono tanti che sono liberi, infatti la palla arriva poi al centro e anche se sbaglia l'attaccante Gastor Ramirez arriva comunque Pezzella un'altra volta per il tappo in vincente, 3-0 sul Bologna. Direi che ormai l'appasita dovrebbe essere in cassaforte, almeno di clamorosi errori. Rivediamo l'incursione di Pezzella che va fino in fondo, c'erano un sacco di giocatori che potevano essere serviti, soprattutto lui, che non viene minimamente servito, poi la palla arriva a Gastor Ramirez che in realtà era marcato e quindi non è stata una scelta intelligente quella di passare la palla a Gastor Ramirez, però alla fine l'importante è metterla dentro e Pezzella ha sicuramente fatto la cosa giusta, sì, era sicuramente in posizione regolare, non era assolutamente un dubbio. 3-0. Caravive, Caravive sull'out, ancora per Teglio, ancora Caravive, ancora Teglio, Teglio la passa a Schiattarella, Schiattarella ancora per Teglio, palla in avanti di Teglio, chiaramente sbagliata, quindi il Bologna si salva, però non è ancora finita perché Caravive potrebbe mettere un cross al centro per Caprari che la gira a Gastor Ramirez, la posizione perfetta, Gastor Ramirez va sul 4-0 per il Benevento. Ormai possiamo dirlo, siamo fuori da quel tunnel veramente bruttissimo che ci aveva colpito qualche episodio fa, dove non riusciamo proprio a giocare a pallone, invece con il Pathfinder, si gioca sempre alla grande, è un modulo obiettivamente molto efficace e offensivo, mi ripeto, lo so, ma sono veramente molto orgoglioso di aver creato questo modulo basandomi soprattutto su quelle che sono le istruzioni, secondo me, più efficaci al momento con questo match engine, potrebbero chiaramente cambiare poi magari con la prossima patch, ma ripeto, ora come ora, utilizzare queste istruzioni con questo modulo, secondo me, è il modo migliore per poter trarre il meglio della propria squadra, soprattutto quando si parte con una squadra che magari non è fortissima. Teglio aggancia il pallone, entra in rigore, Teglio potrebbe metterla dentro, Teglio ma sbaglia il cross, ancora Teglio resiste al contrasto, la pasta gastrona Mirez che si mangia, il gol del 5-0 per il Benevento, ma va bene così, 4 sono già tantissimi per questa squadra, forse sono anche troppi. Ancora sul calcio d'angolo Caprari potrebbe metterla al centro, sul primo pallo ancora per Cardirola che viene però anticipato. Alla fine finisce 4-0 per questo Benevento strepitoso, con un XG di 3,81, veramente clamoroso, forse uno degli XG più alti della nostra stagione, abbiamo completamente dominato il Bologna che conferma di essere in difficoltà in questa stagione, un Bologna che sta lottando per non retrocedere e questo è sicuramente stata una cosa positiva proprio in questo momento della stagione per noi perché era una partita facile che dovevamo assolutamente vincere, ora però ci aspettano i fuochi d'artificio con Napoli e Fiorentina. Siamo arrivati quindi al derby campano, all'andata abbiamo vinto noi grazie a un calcio di punizione del nostro Insigne che batte il fratello proprio su quello che è uno dei punti di forza di Lorenzo, abbiamo però uno sconto sulla carta oggi molto più difficile rispetto all'andata, perché? Perché affrontiamo chiaramente in Napoli fuori casa, affrontiamo un Napoli che sicuramente ha qualche problema perché sull'outi destra vedo Perez e non un Politano o un Ciacchilo Zano, però anche noi siamo messi molto male, come vedrete. Una squadra che è messa molto bene in campo, soprattutto fanno legna a centro campo, così possono permettersi poi di essere molto offensivi sulla tre quarti. Incontrista, regista detrato, una coppia che quest'anno funziona, mentre l'anno scorso l'incontrista era un po' depotenziato. Insigne chiaramente andrà a tagliare verso il centro, così come Perez, ci sarà anche Elmas che avanzerà e poi Osime chiaramente se viene lanciato, e con i lanci lunghi quest'anno chiaramente questi giocatori ci vanno a nozze, potrebbe essere letale per noi. Hanno Malqui che spingerà sull'outi destra, Goulam stranamente è messo come terzino che non spinge, perché è sulla stessa altezza del difensore centrale Koulibaly, quindi non è messo con atteggiamento d'attacco. Strana scelta questa. Ad ogni modo, per il resto è una squadra molto forte, vediamo però come ci possiamo mettere in campo nell'unico modo possibile. Vediamo un po'. Se avessi avuto un'ala invertita sulla sinistra decente, mi sarei potuto mettere tranquillamente con un 4-4-1-1 e me la sarei potuta giocare per il pareggio, che fuori casa contro il Napoli sarebbe stato Oro che colava. Ma purtroppo questa è l'unica formazione che posso mettere in campo, e purtroppo è una formazione offensiva, che fuori casa chiaramente io vi sconsiglio sempre. Ma d'altronde siamo vessati dagli infortuni, e questo è l'unico modo che possiamo chiaramente sfruttare quest'oggi. Chiaramente a centrocampo siamo messi anche abbastanza bene, tra Ionita, Schiattarella e Dabo, sulle fasce e in difesa tutto sommato siamo anche coperti, e la 3-4 che mi preoccupa, perché Caprari sicuramente non è un 3-4-ista, è più un attaccante esterno, però poi se metto Caprari a destra non posso metterlo come attaccante, perché chiaramente poi non mi va a tagliare verso il centro, essendo un piede destro. Quindi devo mettere poi Ramirez invece sull'auti destra, che invece mi avrebbe dato di più come 3-4-ista. Moncini poi lì davanti... Non lo so, io penso che oggi rischiamo l'imbarcata, scegliamo in campo. Prima azione a schermo a tredottesimo, con questa incursione del Napoli che viene però bloccata, era tutto partito da una rimessa laterale chiaramente corta del Napoli. Ancora Fabian Ruiz, a gestire il parole per Insigne, che potrebbe tagliare verso il centro, preferisce passare la Elmas, che entra in rigore e va al tiro a Elmas, ma chiaramente era un po' marcato dai due difensori centrali del Benevento, e quindi non è stato poi lucido sotto porta, e quindi abbiamo rischiato, ma tutto sommato ci è andata bene. Rivediamo ancora l'incursione di Fabian Ruiz, che la gira poi a Insigne, che mette un passaggio delizioso per Elmas, che viene lanciato poi a tu per tu contro Montipò, però chiaramente, essendo un po' marcato, ha sentito il pressing e ha svetto poi il tiro decisivo, che avrebbe potuto portare il Napoli in vantaggio. Attenzione, questa potrebbe svoltare completamente la partita espulso da Bo. Siamo in inferiorità numerica, dobbiamo assolutamente trovare il modo di metterci in campo, ora con un nuovo assetto. Abbiamo anche Caravive, che purtroppo non sta benissimo, io approfitterei della situazione anche per sostituirlo, e metterci Letizia. Abbiamo anche Papetti già ammonito, anche Caprari già ammonito. Non possiamo far altro che continuare con un 4-2-2, perché se mi metto chiaramente con un altro centrocampista centrale, poi chiaramente lascio completamente la partita in mano al mio avversario. Quindi ci mettiamo col 4-2-2-1 e speriamo insomma di non subire il gol in inferiorità numerica. Napoli con Llorente, fermato, quindi Caprari. Caprari può mettere la palla per Schiattarella, Schiattarella ancora in verticale per Gastora Mirez, che non viene anticipato dalla difesa del Napoli. Muncini ancora a difendere il pallone, poi Letizia ancora a Gastora Mirez, in finale di gole, Gastora Mirez va al tiro, sbaglia incredibilmente. Gastora Mirez forse c'era anche un fuorigioco, ma la palla che si è mangiato Gastora Mirez è veramente assurda. Rivedete Letizia come mette in avanti Gastora Mirez a tu per tu con il portiere del Napoli e poi da lì chiaramente bastava un tiro in diagonale sul palo opposto e si andava in vantaggio. Caccio di punizione per il Benevento, Spina vola e neutralizza, forse l'occasione più ghiotta che abbiamo avuto, dove potevamo magari come all'andata colpire il Napoli su punizione, invece facciamo addirittura ripartire il Napoli con Goulam sull'alti sinistra che potrebbe mettere un cross per Diorente, attenzione palla bloccata da Papetti, sta diventando un difensorone, Papetti palla in avanti, poi per Perez il Napoli si vendica del Benevento andando in gol al 93esimo, come abbiamo fatto noi all'andata con quel calcio di punizione incredibile, incredibile Arachiri del Benevento che su punizione poteva chiuderla e invece poi gol sbagliato, gol subito, dura legge del calcio con Malqui che va fino in fondo, entra in rigore, poi Perez, forse l'uomo da qui in minuto l'aspetti perché non è sicuramente il migliore del Napoli lì davanti eppure proprio lui riesce a bucarci, così vediamo ancora l'azione perfetta dove non era sicuramente in fuorigioco Perez perché è partito da dietro e quindi Napoli passa in vantaggio in superiorità numerica e vince anche questo derby, quindi un derby a testa per Napoli e Benevento, derby Campano stavolta, perso da noi. Siamo quindi arrivati allo scontro diretto per l'accesso in Europa contro la Viola, Viola che è scesa in sesta posizione ma comunque è fatta una stagione strepitosa, se però la Viola vincesse quest'oggi ci metterebbe in grandissima difficoltà, abbiamo già perso una posizione, la Lazio ha già giocato ma è andata a 65, se l'Atalanta gioca e vince va a 62, stiamo perdendo punti, le squadre forti stanno cominciando a ingranare, dobbiamo stare molto attenti anche perché la Fiorentina ha una linea di difesa davvero molto 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 efficace, sono nel quadrante migliore possibile per quanto riguarda l'efficienza difensiva, ovvero la tranquilla impenetrabile, anche noi siamo in questa zona ma come vedete siamo molto esterni quindi ci stiamo spostando, la Fiorentina ha una bella difesa ma mi preoccupa molto la Fiorentina perché gioca con difesa 3, tutte le formazioni quest'anno con difesa 3 sono molto pericolose, non so se ci avete fatto caso anche voi nei vostri save, ma anche quando abbiamo incontrato la Lazio, se vi ricordate, insomma abbiamo sofferto veramente tantissimo, in modo che ci ha dato più soddisfazioni contro la difesa 3 è stato il 4-4-1-1 che non possiamo però utilizzare, come sapete, perché Teglio è un giocatore che fa danni, quindi dobbiamo capire come metterci in campo contro questa Viola. 3-5-2 quindi per questa Fiorentina che si mette in campo un po' come l'Inter, con difesa 3, due giocatori sulle fasce che andranno fino in fondo per mettere poi dei cross per la testa di Cutrone, molto forte di testa, molto forte di piede, si sa muovere anche bene senza palla, grande accelerazione, grande velocità, va a compensare quelli che sono i valori di Ribéry, sicuramente non più un giocatore molto mobile ma un giocatore comunque molto forte tecnicamente e mentalmente, un giocatore che scenderà sulla tre quarti, dialogherà con Castrovilli ma creerà anche gli spazi per l'inserimento di Cutrone. A centrocampo hanno una situazione asimmetrica perché hanno Buonaventura che viene messo come regista avanzato quindi potrà avanzare un po' e potrà chiaramente lanciare altri compagni. Giocatore molto sottovalutato credo tanto al Milan non è ancora abolito perché ha 31 anni e fisicamente è ancora messo benino diciamo quindi la Fiorentina è molto forte sia davanti sia a centrocampo e poi anche i difensori centrali comunque non sono sicuramente scassi. Drongoschi in porta è un buon portiere, questa è una squadra che ci metterà tanto in difficoltà è uno scontro diretto importantissimo vediamo come ci mettiamo in campo. Torna finalmente qua che pedina importante è come Diego Falca che sarà preziosissimo in questa fase finale della stagione purtroppo manca Davo che nel 4-3 con vertice basso è sicuramente l'uomo che ci dà equilibrio e quindi dovremo sperare che Schiattarella legga bene la posizione a volte non lo fa anche se ha un valore in posizione molto alto e speriamo insomma che non sia questa la giornata storta di Schiattarella Barba Papetti due difensori centrali molto giovani che potrebbero anche andare in difficoltà con una squadra molto abile lì davanti come la Fiorentina mi preoccupa molto la Viola per l'assetto con difesa a tre con baricentro un po' più basso però noi siamo in casa dobbiamo essere aggressivi questo è il modo secondo me di mettersi in maniera aggressiva ma non essere sbilanciati forse il Pathfinder potrebbe essere troppo aggressivo quindi partiamo con questo 4-3 e poi vediamo insomma come si metterà la situazione se dovremmo essere più aggressivi sicuramente cambieremo modulo scendiamo in campo Iago Falchi al centro bloccata questa incursione del Benevento ancora Caravive Ionita Ionita gestisce il polo e poi per Schiattarella Schiattarella potrebbe imbeccare qualcuno in verticale preferisce Fulon che giustamente era da solo ancora in Benevento con Viola Viola però si ferma non trova spazi quindi ancora da Fulon che non viene minimamente marcato dalla Fiorentina Caprari a entrare di rigore questa era un'occasione ghiottissima doveva sicuramente andare in diagonale sul palo opposto invece qui ha sbagliato sicuramente Caprari rivediamo l'azione con Fulon Fulon che poteva chiaramente servire Caprari solamente così ha fatto veramente un passaggio illuminante il primo tempo si è concluso con un bruttissimo 0-0 con xg basso per entrambi i team evidentemente siamo nella fase finale della stagione e non ci sono più le risorse per poter andare ad attaccare ancora Ionita sulla tre quarti indietro per Caravive Caravive potrebbe ancora imbeccare Ionita che passa la palla a Caprari ancora Ionita Caprari ancora un grandissimo momento senza palla per Caprari che viene da di rigore la mette al centro per Viola poi parapiglia incredibile nell'area piccola perdiamo veramente un'occasione troppo ghiotta per essere sbagliata rivediamo ancora Caprari che fa un ottimo movimento senza palla prima si trova centrale poi si trova laterale a servire la palla per Viola che da lì però non doveva assolutamente sbagliare era un gol già fatto a tre metri dalla porta dovevi assolutamente fare gol Buonaventura si gira la passa Chessus Chessus in avanti per Igor lasciato inspiegabilmente solo Igor ancora per Buonaventura che la gira Castrovilli Castrovilli Buonaventura sono comunque chiusi quindi devono trovare uno sbocco laterale per Cagliacone che non è marcato può andare fino in punto Cagliacone mette la bassa per Ribery che viene anticipato quindi Amrabat può impostare per la Fiorentina ancora Buonaventura che la mette in verticale per Castrovilli che potrebbe mettere un cross basso al centro preferisce andare al tiro sbaglia completamente scelta qui Castrovilli ancora Amrabat ancora per Igor ci riprova la Fiorentina che interna di rigore Igor palla bassa immagino viene bloccato anche questo tentativo rivediamo quindi l'azione di Amrabat che la gira a Buonaventura qui fa un'ottima cosa passandola a Castrovilli da qui poteva metterla dentro però che Ribery era da solo era da solo poteva sicuramente andare a rete l'attaccante della Viola Cagliacone fermato da Castoramirez ma ritorna ancora Cagliacone sulla palla la recupera quindi Buonaventura Martinez quarta lancio lunghissimo per Cutrone che può andare al tiro in diagonale viene però fermato beccato in posizione regolare quindi si salva questa volta il Benevento mancano ormai pochi minuti la partita è sullo 0-0 ma abbiamo un calcio di punizione palla sul secondo palo mannaggia non siamo riusciti a trovare impreparata la Fiorentina quindi ancora Pezzella che potrebbe trasformare l'azione difensiva in offensiva si muove sull'alti sinistra ma non trova spazio quindi ritorna indietro la palla in verticale è sbagliata quindi Castrovilli può far ripartire la Fiorentina con Pezzella lancio lunghissimo dove però per chi soprattutto Papetti recupera questo pallone può ancora spingere in avanti sbaglia completamente la fase di impostazione e favorisce la Fiorentina con Castrovilli che entra di rigore va al tiro Montipò con un mezzo miracolo con una mezza papera anche perché poteva sicuramente intervenire meglio Ribery poi palla per Cutrone sul secondo palo questa partita si avvia su uno 0-0 e tutto sommato ci è andata anche bene 0-0 finale tra Benevento e Fiorentina abbiamo sicuramente visto una partita non brillantissima abbiamo visto sicuramente due squadre che hanno preferito più studiarsi che affondare veramente il colpo finale una ai danni dell'altra perché qua chiaramente era uno sconto diretto chi vinceva poteva chiaramente mettere un punto importante sulla corsa finale poi all'Europa che conta vediamo com'è andata la classifica e cerchiamo di capire qual è lo scenario dell'ultimo episodio quello che arriverà chiaramente nei prossimi giorni che ci farà capire dove potremo giocare l'anno prossimo l'Europa Conference Coppa UEFA o Champions League nelle ultime settimane la Juventus ha giocato con il freno a mano tirato perché ha spido tantissimo nei mesi precedenti a un certo punto aveva 20 punti di vantaggio sulla seconda che ormai si sono dimezzati a 10 ma mancano solo 4 turni di campionato quindi potrebbe avere già lo scudetto in tasca se vince la prossima probabilmente con 3 turni di anticipo vince lo scudetto l'Inter ha comunque spido tantissimo e se lo scudetto è ancora in bilico è proprio perché la squadra di Milano ha fatto 5 vittorie su 5 nelle ultime giornate la Lazio si è ripresa alla grande anche in campionato è ancora impegnata in finale di Coppa Italia in semifinale di Champions Benevento Atalanta Udinese e Fiorentina potrebbero però giocarsi il tutto per tutto nelle ultime 4 giornate perché in palio ci sono sicuramente un posto in Champions sicuramente almeno due posti in Coppa UEFA o un posto in Coppa UEFA e uno in Conference perché ripeto il Sassuolo dovesse vincere poi la Coppa Italia il 19 maggio ridurrebbe i posti in Europa da 7 a 6 per le squadre che appunto lottano nelle prime posizioni quindi una di queste tra Benevento Atalanta Udinese e Fiorentina potrebbe clamorosamente essere esclusa dalle competizioni europee purtroppo l'Udinese ha vinto l'ultima giornata quindi si è portata a 60 punti abbiamo solo 4 punti di vantaggio sull'Udinese e 5 punti di vantaggio sulla Fiorentina e purtroppo le ultime giornate di campionato sono tostissime perché andremo ad affrontare Sampdoria Lazio Milan e Juventus sperando che la Juventus magari non abbia più nulla da dire sperando che il Milan non abbia più nulla da dire sperando che la Lazio insomma magari si concentri più sulla Champions ma sulla carta è davvero una sfida impossibile quella che abbiamo nelle ultime 4 giornate io spero almeno di finire in Conference League perché credo che per il campionato che abbiamo fatto per il mercato che abbiamo fatto per la squadra che siamo abbiamo fatto un miracolo e ci meritiamo un posto in Europa però clamorosamente potremo anche uscire da tutto ci vediamo per il prossimo episodio che sarà sicuramente quello più incredibile di tutta la stagione buon salbone buon proseguimento di giornata forza streghe